flesso deve essere morbido non troppo rigido è così vedi piatto corde lo senti via lo senti che vedi senti verso di me verso la recinzione dietro ok poi lasci cadere veloce vai così ok quando arriva la palla dopo lo lasci cadere veloce vai esatto dopo dai continuità tua adesso lo sto forzando vai così e risali risali però vieni su nel finale ai lasci cadere il finale qua brava dietro devi toccare quasi la schiena vai via brava perfetto vedi che non è più bloccato vedi vedi che adesso ci sei vai così bravissima ok sali bene ottimo vai ok perfetto questo giù veloce risali perpendicolare cerca di migliorare l'effetto a spazzolare brava ora il finale su verso l'alto è il gomito su esatto vedi sei salita di più anche se andati in rete vai via esatto ancora qua bene su usa la mano brava se no ti trovi la palla addosso vai ok stiamo più indietro stiamo c'è prima prima sei in ritardo devi andare te la lancio la racchetta vai via così capito ciao a tutti amici di marina romea tennis come vedete in questo video lo sto utilizzando la lancia palle e ne vedete espressamente l'utilità quindi riuscire a stare molto vicini al nostro allievo forzarlo a certe posture a certi movimenti far sentire alcuni movimenti che magari in quel momento sono sono molto naturali al nostro allievo possono portare un vantaggio molto molto elevato quindi e questo è un pochino una delle qualità che noi possiamo sfruttare nell'utilizzare una macchina lancia palle ed è per questo che ne consiglio l'utilizzo sia in modo privato ma anche in modo professionale se volete maggiori informazioni o volete saperne di più anche sull'utilizzo della macchina lancia palle sulle funzionalità o le modalità di acquisto potete contattarmi via mail trovate qui sotto nella descrizione del video tutti i miei contatti oppure potete visitare anche il mio sito web e vi aspetto quest'estate nei miei stage weekend se volete o settimanali per poter curare tutti questi aspetti quindi non potete mancare anche perché se volete conoscere la nostra mascotte romeo non potete che non venire a marina romea alla prossima roberto